Siamo con Rocca Andrea Iascone, responsabile della comunicazione per quanto riguarda il consorzio di CREA, Termoli tra le otto tappe di questo tour nell'Adriatico che mira a dire ai turisti, differenziate anche in vacanza. La raccolta differenziata è proprio così, non va mai in vacanza, nemmeno nei momenti di relax, ma è un concetto che i cittadini di Termoli e i suoi turisti hanno ben chiaro, perché i dati di raccolta di questi imballaggi, che sono quelli che noi abbiamo a riciclo, cioè gli imballaggi in acciaio, dal barattolo del pomodoro alla scatoletta di tonno, il tappo corona, le latte d'olio, i secchielli e le bombolette, hanno un'ottima performance di raccolta, siamo al 3,9% di ingresa chilogrammi abitante anno, tenete conto che la resa media è del 4,4, quindi siamo ad un ottimo livello e siamo qui per ringraziare il comune, ringraziare anche il gestore della raccolta, la piattaforma e i cittadini che rendono possibile questo ciclo virtuoso della raccolta differenziata e riciclo degli imballaggi in acciaio.